Sono passati 22 anni dalla morte di Mia Martini, e sua sorella Loredana Bertè ancora non riesce a perdonarsi per non esserle stata abbastanza vicino in quel momento buio Sono passati 22 anni dalla morte di Mia Martini, e sua sorella Loredana Bertè ancora non riesce a perdonarsi per non esserle stata abbastanza vicino in quel momento buio Trovata senza vita nel suo appartamento il 14 maggio del 1995, dopo giorni di irreperibilità, l'autopsia indicò come causa della morte della testa un arresto cardiaco da overdose di stupefacenti Quando una è troppo brava, tu la distruggi dicendo che porta male Mimì non si drogava, si faceva una canna ogni tanto, ma hanno scritto di tutto L'hanno infamata Ancora la ricordano male Ancora la ricordano male Quest'anno ho deciso di non farlo Mi sento un po' in colpa, ha raccontato ancora la cantante, perché penso che se avessi fatto qualche viaggio in Mino e fossi rimasta un po' più accanto a lei, a parlare con lei, forse sarebbe ancora viva Lei insistette tanto per darmi un telefonino, io non l'ho voluto, se quella sera lo avessi avuto, lei sarebbe ancora viva E questo il più grande rimorso di Loredana perché, non mi perdonerò mai per questo Le sorelle si danno sempre per scontate Io di lei ho solo una foto, tutto il resto è stato ignorato